Ok ragazzi, vi chiamate Andrea Lucidi, siete un giornalista italiano nato nel 1987 e regolarmente iscritto a Valvo e nel 2014 decidete di trasferirvi o comunque frequentare assiduamente il Donbass per fare una serie di ricerche indipendenti talmente indipendenti da indossare uniformi russe con tanto di z e a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? Iniziamo col dire che Andrea Lucidi ha fatto qualche intervento anche sul nostro primo canale e che dal tenore di questi interventi si capiva chiaramente che in casa sua campeggiava un grande e grosso tricolore russo circondato da nastri di San Giorgio anche se all'epoca nessuno degli iscritti aveva ancora avuto occasione di vederla a quella casa era tuttavia sufficiente leggere il tenore delle sue dichiarazioni per capire da quale parte stesse e quanto fosse condizionato per esempio con riguardo al problema della sottrazione dei minori ucraini alle proprie famiglie Lucidi commentava così anche qui devo smentire queste informazioni nessun minore è stato sottratto alle famiglie in Russia sono stati portati bambini degli istituti per minori di DNR e LNR istituti come internati o fuoranotrofi alcuni fortunatamente sono stati dati in adozione io stesso vorrei adottare uno di questi bambini secondo non esistono campi di rieducazione per bambini al contrario a Severdonesco ho documentato l'esistenza di un campo di addestramento per ragazzi da omissis naturalmente l'ONU si diverte a indagare capi di stato perché i funzionari si annoiano che cosa facciamo oggi? non lo so, è un giorno pari o dispari? eh, dispari? allora indaghiamo Putin e anche quella bella sventolova della belova probabilmente per Andrea Lucidi l'ONU lavora in questo modo qua oppure molto più banalmente è sotto il controllo dei Pluto Masso Giudaici Terrasferisti Atlantisti tutta gente che nutre del rancore per Vladimir Putin perché cavalsca gli orsi a torso nudo molto meglio degli altri che poi, intendiamoci, nessuno è colpevole fino a condanna definitiva ma l'ONU ha documentato letteralmente centinaia prima e migliaia di casi dopo ed abbiamo sul punto notevoli fonti di prova abbiamo infatti le testimonianze e letteralmente gigabyte e gigabyte di indagini realmente indipendenti che confermano il dato sull'altro canale infatti avevamo addirittura analizzato una ricerca della Yale University e se vogliamo limitarci agli aspetti più pittoreschi beh, abbiamo le evidenze fotografiche del fatto perché anche la stampa russa si è vantata del fatto che i bambini ucraini vengono presi e dati in adozione o rieducati in appositi centri in attesa di essere dati in adozione qui per esempio vediamo dei ragazzini ucraini che indossano uniformi russe e cecene a proposito, quindi il nostro giornalista Andrea Lucidi non tiene in bella mostra soltanto il tricolore russo ma anche quello ceceno comunque come stavo dicendo ci sono ragazzini ucraini a cui vengono fatte impugnare armi russe e indossare uniformi russe e cecene e ci sono poi le immagini delle mamme ucraine che fanno viaggi letteralmente di centinaia o migliaia di chilometri per poter riportare a casa i bambini e quando va bene si riescono a recuperare 10, 20, 30 bambini per volta ma sono pochissimi visto il numero dei minori che sono stati letteralmente deportati perché questo è il termine tecnicamente corretto deportati e tacciamo poi su quella dichiarazione di Andrea Lucidi che dice anch'io vorrei adottarne uno non è esattamente così che funziona o dovrebbe funzionare il mondo i bambini non sono come i cuccioli di gatto o di cane ai quali più o meno basta trovare una casa qualsiasi intendo dire un cucciolo di cane o di gatto lo trovi al canile vai in uno di questi posti scegli il cucciolo che preferisci e te lo porti a casa poi naturalmente c'è un minimo di follow up ma il concetto di fondo è che per il cane non fa alcuna differenza stare con te o con qualcun altro che lo tratta bene mentre invece la stragrande maggioranza dei bambini ha una storia alle spalle ha una propria cultura e una propria lingua chi sei tu per adottare un bambino che magari o anzi probabilmente ha dei parenti in Ucraina ok il tuo è un discorso decisamente semplicistico a voler tacere naturalmente del fatto che crescerai quei bambini in una nazione in cui alla prima protesta o alla prima esibizione di un cartello bianco verranno arrestati e sbattuti in galera e la cosa relativamente interessante e inquietante è che Andrea Lucidi non si pone queste domande che per noi sono scontate si limita a dire cose del tipo ah i bambini ucraini hanno un'altra lingua e altre tradizioni quindi state sostenendo che il Donbass non è Ucraina uè Lucidi guarda che c'è stata una guerra chi mi garantisce che quelli rimasti nel Donbass o arrivati nel Donbass dopo il 2014 non siano semplicemente filorussi e che tutto il resto della popolazione sia stata costretta ad andarsene prima del tuo arrivo e comunque mentre il focus mio e della community era sui problemi dei bambini Lucidi ne faceva una questione nazionale una questione di bandiera per l'appunto ora per quale motivo secondo voi ho fatto questa lunga introduzione parlando del modo in cui Andrea Lucidi vede il mondo o quantomeno determinate questioni l'ho fatto per farvi capire che effettivamente Andrea Lucidi trangugia ogni giorno i tolitri di olio di distillato di propaganda russa per lui i ceceni non sono affatto estremisti evidentemente non ha mai sentito discorsi di questo tipo qua però ragazzi ripeto io non sono un esperto magari mi sbaglio non sono estremisti ma sono soltanto jihadari e questo per inciso non lo dico per criticarlo ma per farvi capire come ragiona beh insomma ragiona per un tipo che sia bevera di propaganda russa forse è un termine un poco eccessivo però il senso è quello Andrea Lucidi fa propria tutta la propaganda russa dall'inizio alla fine immaginatevi che cosa può succedere se fate il giornalista freelance in questo modo qua difendendo a spada tratta il governo ma anche i soldati russi e soprattutto accusando gli ucraini di fare le peggiori cose a getto continuo il minimo che ti può accadere è quello di finire nel registro degli indagati per qualche reato collegato alla lesione dell'onore di un altro stato quello ucraino naturalmente o perlomeno questo è quello che riferisce Andrea Lucidi perché di fatto informazioni precise a proposito di un'indagine o del fatto che Andrea Lucidi sia ricercato dalle autorità ucraine non le abbiamo di certo infatti Andrea Lucidi è finito nel famoso quanto famigerato database del pacificatore peraltro con una descrizione piuttosto banale e scontata nel caso specifico Andrea Lucidi è accusato da questo sito di essere di aver compiuto una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina probabilmente perché è entrato nel Donbass senza autorizzazione del governo ucraino di diffondere racconti di propaganda del Cremlino e questo secondo me è indubitabile poi di aver fornito supporto informativo per l'attacco aperto della Russia bipista all'Ucraina e viene ritenuto anche complice dei crimini delle autorità russe contro l'Ucraina e i suoi cittadini seguono dei dati inseriti un pochino alla rinfusa blogger italiano data di nascita 8 ottobre dell'87 c'è una fonte indicata come incriminante che sostanzialmente è un articolo in cui accusa i soldati ucraini di aver letteralmente sciolto da qualche parte dei prigionieri russi e di essersene poi liberati buttandoli nelle fogne o in qualcosa di simile c'è una breve descrizione dove risulta che Andrea Lucidi è un blogger italiano che ha visitato Sever Donetsk ha visitato il posto di blocco dove si trovavano i rappresentanti del settore destro il blogger è sicuro che qui sia stata organizzata una prigione per i sostenitori russi Lucidi ha studiato presso le università di Pisa e Bologna ha conseguito la laurea magistrale in storia quindi un master in arti nel curriculum per la storia europea moderna presso l'università di Beifeld in Germania e lì gli è stata assegnata una borsa di studio per uno stage in Russia presso l'università statale di San Pietroburgo dove ha tenuto un corso di lingua tedesca presso la facoltà di sociologia così è finito in Russia e ha iniziato a studiare il Donbass nel 2015 l'argomento della sua ricerca per i tratesi è stato in particolare sui volontari stranieri delle Waffen SS seguono poi i vari contatti e il commento sul il peacemaker center chiede alle forze dell'ordine di considerare questa pubblicazione sul sito web come una dichiarazione sulla commissione da parte di questo cittadino di atti deliberati contro la sicurezza nazionale dell'Ucraina la pace la sicurezza dell'umanità e la legge e l'ordine internazionali nonché altri reati e naturalmente Andrea Lucidi fa propria la narrativa russa che in realtà è più o meno una leggenda metropolitana in base al quale il pacificatore sarebbe addirittura un organo ufficiale dei servizi segreti ucraini e che tutte le persone indicate in questo sito siano effettivamente indagate e ricercate dalla popolazione ucraina che proprio quando finisci su questo sito gli agenti ti sparano a vista questo secondo la leggenda metropolitana e secondo Andrea Lucidi in realtà questo è un banalissimo sito collegato a un'associazione di destra che però non ha alcuna funzione ufficiale anzi la procura di Kiev se non vado errato qualche anno fa ha anche provato a farlo chiudere questo sito ma senza troppo successo perché le leggi ucraine non prevedono la censura o addirittura non prevedono neppure la soppressione di un sito per diffamazione poi magari mi sbaglio io e la causa è stata semplicemente istruita male ma questo è ed è anche credibile se consideriamo il fatto che gli ucraini sono usciti dall'unione sovietica alla quale era tutto fuorché una democrazia quindi quando si esce da un periodo di oppressione non è così raro o peregrino peccare in senso opposto e tutelare qualsiasi espressione anche quelle che non andrebbero tutelate in un sistema quindi ricapitolando il fatto che Andrea Lucidi sia finito nel database di un sito appartenente a degli haters non fa di lui automaticamente un perseguitato politico da parte ucraina corrisponde però a realtà che buona parte del suo lavoro è stato effettivamente studiato dai servizi segreti ucraini i quali hanno anche pubblicato un articolo sulla disinformazione portata avanti da certi blogger italiani vediamolo insieme non è un segreto che Telegram abbia da tempo conquistato la leadership fra i messenger in Ucraina utilizzati come fonte di notizie immediate ma non si tratta di una tendenza esclusivamente Ucraina o russa anche la quota di utenti di questa rete all'estero è in crescita ad esempio secondo gli analisti di Sensor Tower Telegram è diventato il messenger più scaricato in Europa nel 2022 per questo motivo la propaganda filo russa spende sempre più risorse nello sviluppo di reti che trasmettono le narrazioni necessarie esclusivamente al pubblico straniero il centro di comunicazione strategica ha analizzato il lavoro di una di queste reti il cui volto è lo pseudogiornalista italiano Andrea Lucidi l'italiano lavora da tempo per la propaganda russa Lucidi ha profili su Instagram Twitter e Youtube ma non li usa molto attivamente e il pubblico su ciascuno di questi siti non supera i 3000 iscritti l'italiano si reca regolarmente nei territori temporaneamente occupati dove gira storie di propaganda che vengono poi distribuite ai media del Cremlino con particolare enfasi su quanto riportato dal giornalista italiano tra virgolette a marzo per esempio il propagandista russo Vladimir Soloyov nel suo canale Telegram ha ringraziato lo pseudogiornalista per aver cercato di trasmettere la verità ai cittadini del paese Lucidi è venuto a Mariupol per girare un video sullo sfondo dei nuovi edifici della città il luogo principale del lavoro di Lucidi è Telegram dove ha un canale personale con 7700 iscritti oltre a sostenere una serie di piattaforme del Cremlino che imitano i medi indipendenti i quali vogliono dire la verità agli italiani fra virgolette come la Russia ha diffuso un falso sul prete impiccato dell'UOC il 7 maggio Lucidi ha pubblicato sulla sua pagina un video da TikTok in cui i militari ucraini avrebbero impiccato il sacerdote e poi se ne è vantato sui social network recentemente si è parlato molto dell'oppressione religiosa in Ucraina nei confronti della chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca abbiamo assistito a violenza e odio contro i religiosi credenti abbiamo visto come le autorità di Kiev abbiano espulso dei monaci ordinari da uno dei monasteri più antichi e importanti per l'ortodossia quello che non abbiamo ancora visto è che l'esercito ucraino ha pubblicato dei video che mostrano l'impiccagione di una presunta bambola con il costume di un sacerdote ortodosso tutto questo con una canzone allegra ha scritto Lucidi nel suo canale telegram per una strana coincidenza proprio in quei giorni si sono svolti i raduni nei pressi della lavra di Kiev è importante precisare che Lucidi ha comunque definito il sacerdote impiccato fra virgolette un bambolotto un manichino mentre i suoi colleghi russi si sono limitati a diffondere sui social network un video con titoli come le bestie dell'AFU hanno impiccato un prete ortodosso fra virgolette dopodiché l'articolo spiega come in realtà i media russi e soprattutto le agenzie russe come la Riano Vosti piuttosto che la TASS attingono a queste fonti per far vedere che la notizia è attendibile in quanto apparentemente non proveniente da una fonte russa l'articolo dei servizi di sicurezza ucraini parlano poi anche di altri blogger italiani e di altri canali telegram italiani come per esempio la terza Roma piuttosto che un ponte fra Italia e russa di Tatiana non mi ricordo come si chiama il nome del canale non è esattamente questo come potete facilmente immaginare il concetto di fondo per i servizi segreti ucraini comunque sta nel fatto che i russi sfruttano il lavoro di pseudo giornalisti bloggari e simili che attingono a fake news costruite diffuse più o meno ad arte lo rivalutano detto fra parentesi Lucidi ha avuto anche i complimenti di Solo io tempo fa quindi Lucidi certamente è un piccolo giornalista ma ottiene grandi attenzioni da parte della propaganda russa e poi una volta che Lucidi ha pubblicato i suoi articoli questi vengono rilanciati dai media russi più grandi infine i servizi di sicurezza ucraini ci tengono a sottolineare quanto il lavoro di Lucidi sia almeno in alcune occasioni decisamente approssimato esemplificativamente proprio nel post della bambola impiccata viene allegato un video in questo video le persone che pronunciano le offese verso la bambola impiccata vestita da sacerdote non sono ucraine ma sono russe utilizzano vocaboli russi e hanno l'accento russo quindi sostanzialmente Lucidi ha preso un fake e lo ha reso famoso mettendoci la sua faccia e la sua firma l'articolo dei servizi di sicurezza ucraini descrive questa dinamica qui e ragazzi non c'è altro Lucidi quindi è diventato il nemico pubblico e anche privato numero uno dell'Ucraina francamente non credo tutto quello che sappiamo che al momento il suo nominativo e la sua fotografia sono stati inseriti all'interno di un database gestito da privati la cui attendibilità è probabilmente una spanna al di sopra rispetto a quella di Mteam da una parte e che i servizi di sicurezza ucraini hanno parlato di lui in un articolo sulla disinformazione russa tutto qui insomma anche la notizia diffusa sul fatto che Andrea Lucidi sia ricercato dai servizi di sicurezza ucraini sembra essere l'ennesima fake news ma anche se lo fosse e cioè fosse effettivamente iscritto nel registro degli indagati di qualche magistrato ucraino non ci sarebbe da stupirsi insomma Lucidi critica le forze armate ucraine il governo ucraino e anche i militari ucraini un giorno sì e l'altro pure non puoi diffondere notizie non verificate presumibilmente false pensando poi di ricevere il premio Pulitzer il reato di diffamazione peraltro esiste anche in Italia così come esiste anche in Italia il reato di intelligenza con il nemico che vale naturalmente soltanto in periodo di guerra e se noi italiani non siamo in guerra con la Russia gli ucraini lo sono eccome quindi quando inizia a collaborare con uno stato contro un altro stato in questo caso entrambi stati stranieri qualche rischio lo corri ed è un rischio fisiologico diciamoci le cose come stanno anch'io sono un pesce piccolo piccolissimo ma mi guarderei bene dall'andare a passare le vacanze in Russia quindi sinceramente non riesco proprio a comprendere il vittimismo di Andrea Lucidi semmai mi sorge spontanea una domanda ma Andrea Lucidi esattamente per chi lavora? no intendo dire proprio in senso letterale chi è il suo datore di lavoro? perché se io volessi piantare tutto e andare in Ucraina per raccontare la guerra qualche difficoltà ce l'avrei insomma devo pensare a come arrivare a fine mese e sfamare una famiglia anche se a vedermi non si direbbe e dato che Andrea Lucidi non mi sembra il corrispondente di qualche grande testata credo che la domanda sia più che legittima non è che alla fine è al libro paga di Prigozin o di qualcuno come lui che gestisce un media russo per me che sono italiano l'informazione ha un valore relativo quasi di curiosità ma per un magistrato ucraino anche questa situazione potrebbe essere interessante e voi che cosa ne pensate? come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piace il mio canale ricordatevi di mettere il mi piace al video di iscrivervi di condividerne i contenuti e di attivare la campanella e come sempre ricordatevi di fare tutto quello che vi ho suggerito perché se no in caso contrario in un futuro alternativo remoto e puramente eventuale M.T.M. e il Pacificatore potrebbero contribuire per catturare tutti i pericolosi criminali che infestano il pianeta io vi ho avvisati come sempre grazie di tutto per tutto e a presto